ciao bella gente benvenuti in mio canale io sono amale oggi voglio parlarvi di rosmarino il rosmarino che ho già parlato nei miei precedenti video che io l'utilizzavo per la cellulite e adesso vi racconto un pochettino la storia di rosmarino rosmarino veniva conosciuto come una pianta aromatica una pianta terapeutica che ha dei poteri medicinali si narravano tantissime leggende sul rosmarino però la più conosciuta che dio apollo si innamorò di una principessa che si chiamava leucotue era la figlia del re di babilonia castigata dal padre sempre chiusa nel palazzo lei si innamorò di questo dio e si vedeva un segreto finché un giorno una ninfa che era innamorata di dio apollo rifiutata da lui per gelosia e invidia raccontò al padre di lui si arrabbiò tanto che lo seppellì viva era la sfiga proprio per una volta che ti capita un dio il padre ti castiga comunque viene la seppellita viva e i raggi di sole che battevano sulla sua tomba sono arrivati fino alle spolie e da lì piano piano è nata questa pianta aromatica che sarebbe il rosmarino da questa leggenda qua veniva l'ausanza di accompagnare i morti al cimitero con nelle mani rametti di rosmarino di alloro e di mirto nel rosmarino nel medioevo usavano proprio i suoi rametti suoi fogli come talismani contro il malocchio la sfiga non so io ci provo a usarlo vediamo se funziona e usavano i propri rametti come pettine contro la calvizia non credo che arrivare a questi livelli però ci sarà gente disperata comunque nel medioevo lo usavano allora i benefici del rosmarino rosmarino ha tantissime proprietà e tantissimi benefici per il nostro corpo la proprietà è antibatterico antisettico e anti infiammator sono benissimo per sistema digestivo si consiglia tantissimo o usarlo come impacco usarlo come olio essenziale per dolore articolari per dolori muscolari per la cervicale per il torcicollo problemi intestinali rosmarino va benissimo anche per la pelle consigliato tantissimo per la pelle impura con acne o imperfezione o brufoli uno dei miei video avevo consigliato e rosmarino per la cellulite perché attiva la microcircolazione della pelle io lo usavo solo rosmarino mettevo rosmarino e mettevo nell'aceto di mela lo lasciavo riposare per un mesetto in altri usi del rosmarino ad esempio per fare un bagno rilassante se ti fa male la schiena fanno male i muscoli praticamente potete prendere di rametti di rosmarino metterlo a dire l'acqua proprio del rosmarino torriete i rametti e lo versate nella vasca calda aiuta tra l'odore che rilassante aiutare rilassare anche il corpo e i muscoli consigliato anche come impacchi sia per la cellulite per la pelle per i muscoli per la schiena per problemi di collo o per il mal di testa ad esempio per i capelli e consigliato usarlo per i capelli grassi perché attiva la microcircolazione di coio capelluto quindi è consigliatissimo per i capelli grassi per i capelli secchi non tanto io vi consiglio ad esempio dato l'aceto che avevo preparato io per la circolazione perché per la ritenzione idrica potete utilizzarlo anche per i capelli perché come voi sapete l'aceto va benissimo per i capelli perché li da lucidità io vi consiglio aggiungere il rosmarino per i capelli grassi tra l'altro li lascia un buon profumo dei capelli molto più belli lucidi e meravigliosi sul viso la pelle mista ma sul corpo o la pelle molto molto secca come ho fatto vedere nell'altro video uso il latte di cocco latte di cocco che super idratante ma utilizzo sotto la doccia quando mi lavo prima di uscire sapendo che la pelle calda i pori dilatati del corpo uso l'olio a base di rosmarino non solo a base di rosmarino uso sia l'olio a base di rosmarino uso l'olio a base di camomilla uso l'olio a base di limone olio a base di arancia come si prepara è semplice non è così tanto complicato vi lascio al video tutorial come preparo il mio eccoci gente prepariamo il nostro olio di rosmarino prendo una bottiglia come ho fatto vedere una normalissima bottiglia lavata prima fatta asciugare perché non deve essere acqua dentro la cosa fondamentale che l'olio deve arrivare ferro fino in cima così e ci metto l'olio di girasole normale la maggior parte dell'olio sarà di girasole perché è più leggero confronto l'olio extravergine metto qualche goccia di olio extravergine due gocce di olio di argan perché è super idratante per la pelle però come sapete ha un odore abbastanza forte non è che può piacere a tutti e olio di avocado comunque potete utilizzare solo l'olio di olio di semi se volete o metà olio di semi metà olio extravergine questo se gelarlo bene e gelarlo e lasciarlo agire per un mesetto ok ciao ragazzi e ragazzi spero che vi è piaciuto il mio video i miei curiosità sono rosmarino che tra l'altro ha un profumo meraviglioso che io adoro a parte che tutti i profumi naturali a me mi stimolano mi danno un po di energia comunque grazie di avermi visto grazie di aver seguito il mio video e grazie se mi avete seguito altre volte niente seguitemi su instagram su facebook mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e vi ringrazio tanto e alla prossima credo che il prossimo video sarà sulla cannella ciao bella gente ciao ciao ciao